Signore Gesù, che vi siete regnato di farvi partecipare all'inizia dei Cavalieri Quassantiniani di San Giorgio, vi supplico umilmente per l'intercessione della Beata Vergine di Pompei, Regine delle Vittorie, e del valoroso San Giorgio, Martire, vostro e pulidoso Cavalieri di tutti i Santi, di aiutarmi a restare pedigli alle inscrizioni del nostro ordine, praticando e dipendendo la Santa Religione Cattolica e la Storica Cattolica, contro l'assalto dell'impietà, essa diventi per me armatura di fede e scudo di buona volontà, sicura difesa contro le insidie dei miei nemici, tanto i simili quanto i disimili. Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la carità verso i prossimi e specialmente verso i poveri e i perseguitati a causa della giustizia. Datevi infine le virtù necessarie per realizzare, secondo lo spirito del congello, con amico disinteressato profondamente quest'anno questi sanzi desideri, per la maggior gloria di Dio, la glorificazione della Santa Croce e la propaganda della vita, per la pace nel mondo e nel bene dell'ordine di quest'antinale di San Giorgio. Grazie. 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 Grazie a tutti.